Il fiume delle scalinate È caduto qua davanti, oddio, io mi sono andata Il fiume delle scalinate È caduto Il fiume delle scalinate È caduto qua davanti, oddio, io mi sono andata Il fiume delle scalinate È caduto qua davanti, oddio, io mi sono andata Fa ingresso il Presidente della Repubblica Il compito degli Atenei è formare un popolo repubblicano Un popolo che è un tessuto umano Capace di fronte alle grandi calamità naturali Di fornire il contributo di uno sforzo unitario e comune Uno sforzo unitario e comune Che dimostra come la parola, la buona parola Deba unire e non separare o allontanare E che è stato in questi giorni raffigurato in maniera emblematica Dalle immagini dei soccorritori Che sono, che tra muraglie di neve In mezzo a una tormenta Con grande fatica Con pericolo per se stessi Con grande benegazione Hanno salvato vite umane Grazie Facendo della Repubblica La stessa Con grande fatica Leниi F�도 Sulla Grazie a tutti. Grazie a tutti.